va bene abbiamo cominciato i primi tentativi di entrata rimane un po rimane un po sacrificata l'entrata purtroppo anche quando scaricato un'infinità di detriti però abbiamo visto che riguardano solo la prima parte del rifugio quello più comodo la parte interna dovrebbe essere libera e siccome in una zona industriale dovrebbe essere anche un rifugio con l'entrata piccola ma all'interno grande adesso vediamo se riusciamo andare un pochettino più avanti ok attento alle ok sono entrato un attimo che mi giro cosa vediamo wow questa è la prima volta in assoluto che troviamo ancora i legni dalla struttura che reggeva la parte di sopra la parte di sopra del rifugio quella più più a rischio di crollo qua addirittura troviamo due i due le due grandi mischie ha detto questo era introdotto lì e ci sarà il suo corrispettivo di qua qui c'è un'altra entrata lì c'è l'altra base per un legno un attimo che mi giro guardate qua un altro buco un altro foro un altro foro un altro foro per i puntellamenti quella era l'entrata si arrivava qui in questo in questa deviazione di cui c'era l'ingresso di di un rifugio qua c'è addirittura una scritta una scritta che si legge e non si legge generalmente qui che troviamo sempre la la firma dell'autore guardate che bello da sta parte adesso poi ci andiamo andiamo un po curiosare qua allora come vi dicevo per terra ci sono i legni che sorreggevano la struttura e una parte di di quello che è crollato dal soffitto mentre le pareti sono non sono a grotta ma sono state fatte con il materiale che è che è uscito fuori da dallo scavo però non tutto perché una parte di pietre sono state portate dall'esterno vediamo questa che rotonda vediamo questa che rotonda sono pietre di mare queste qua sono state portate qua per lo si vede che le pietre le pietre non erano abbastanza forti per poter reggere la muratura c'è sempre il corrispettivo il corrispettivo mucchio e sopra la parte della frana praticamente quello che è crollato da lì lo troviamo per terra a me fanno impazzire queste cose guardate la profondità di questo buco perché è così profondo di qua e meno profondo di là ve lo spiego subito perché quando veniva introdotto il legno il legno era quasi di misura doveva andare tanto dentro di là andava dentro 50 centimetri la poi veniva tirato su e infilato da questa parte qua è un vecchio sistema che in uso ancora adesso da una parte più profondo e dall'altra parte meno sempre per questo questa tipologia di lavoro che serviva per l'introduzione del del legno allora qua vediamo ci sono comunque ancora tante pietre accattastate chissà perché forse qua volevano continuare andare avanti qua abbiamo ancora un legno guardate un po la la cubatura di questo posto è grandissima ma purtroppo qua fuori purtroppo c'è una grande industria c'erano c'erano delle grandi industrie delle acciaierie che servivano servivano al paese lo sviluppo del paese quindi avevano bisogno di una buona zona di ricovero non sono cose artigianali comunque poi qualche parte è stata dismesso la lavorazione cominciata poi si vede che hanno smesso chissà perché ci sono dei ragni io guardo sempre a dove tocco cosa faccio qua di nuovo un grande crollo ma più che un grande crollo qua mi sembra che le pietre sono state ammucchiate sono state raccolte da fuori e introdotte dentro chissà perché lì c'è ancora uno di quei legni famosi di quei ferri famosi che servivano per sollevare i tronchi di legno pesanti vi ho già spiegato cosa servono questi venivano conficcati nel legno poi tipo valigie venivano tirati su e collocati dove andavano dove andavano messi anche qua non troviamo più i legni perché ormai si sono deteriorati comunque troviamo ancora le parti le parti del legno che sono queste qua e i fori di fissaggio ma mi incuriosisce parecchio la mi incuriosisce parecchio vedete un altro un altro rimasuglio del legno che era collocato qua dentro io sono sempre curioso di vedere se riesco a trovare qualcosa qualche qualche traccia qualcosa va bene adesso percorriamo il rifugio nel senso verso andiamo a vedere l'altra diramazione quella che vi ho fatto vedere prima una curiosità ho notato che c'è pochissima spazzatura questa vecchia lattina di birra si vedono proprio i denti gli incisivi dei topi che se la sono che se la sono pre gustata si vede che sentivano ancora il gusto della birra e allora hanno detto sicuramente dentro c'era la birra e ci diamo due morsicate vado un po nell'altro a cosa abbiamo qui qui abbiamo del guano di bibistrello quindi se tanto mi da tanto eccolo lì lo vedete non li disturbiamo perché già tempo di lettargo li lasciamo stare non fanno caso a noi come noi non facciamo caso allora va bene avete appena detto non disturbarlo se ne davano qua se ne andate poverino va detto non lui sa dove andare va bene allora eccolo la eccolo la come vi dicevo prima qui c'è uno di quei ferri famosi che servivano vedete eccolo qua vedete questo qui lo tolgo dai ormai tanto il legno non ha più consistenza venivano piantati il legno veniva preso e trasportato nel luogo dove veniva poi fissato allora qui una parte del rifugio è stata continuata c'è una parte in grotta una parte in muratura anche qua grandi tronchi di legno rotondi non squadrati qua c'è il muro anti antisoffio un curiosissimo buco quadrato passanti molto molto interessante guardate questo ferro che sicuramente serviva per appendere un cavo elettrico come vi dicevo qua c'era tanta gente perciò ci voleva dell'illuminazione ancora un legno posizionato nel suo nel suo alloggio forse l'unico allora qui cosa abbiamo abbiamo un grande mucchio di terra perciò di sopra una grande frana però noi facciamo finta di niente passiamo confidiamo un po di fortuna che non ci venga niente sulla testa ok arrivati qui guardiamo un che cosa c'è allora rifugio continua qua è cambiata anche la struttura delle pietre di là sono pietre marroni con con della terra dentro invece qua la faccenda è molto più sicuro infatti non ci sono crolli vedete perché qua è un altro un'altra tipologia di te di di terreno infatti come dico sempre io più c'è duro più sei al sicuro quel tipo di di conglomerato lì di terra e pietre non è non è non è tanto sicuro perché è facile che crolli che frani infatti qua non hanno messo le strutture portanti di legno vedete non ci sono i legni c'è qualche pezzo di legno ma non ha niente a vedere si vede che è stato portato da da qualcuno qui c'è un ferro che serviva sicuramente per far passare l'impianto elettrico possibile che non ci sia traccia dell'impianto elettrico ai colori invece vedete eccolo qua questo un portalampade portalampade dell'epoca non so voi non potete sentire il peso ma è è di ceramica c'è la parte di ottone e la ghiera di ceramica lo lasciamo qui per chi verrà dopo di me pezzo di storia non si tocca ok andiamo avanti vediamo vedete c'è sempre qualche qualche pezzo di legno però non sono travature sono pezzi di legno che secondo me sono stati portati dopo da qualcuno c'è un caldo infernale qua dentro lì c'è una piccola costruzione c'è una piccola costruzione artificiale come un muro come un muro forse di sostegno per la parte di sopra sì infatti qua cambia di nuovo la struttura del la struttura della pietra siamo passati da una parte come vi dicevo prima grigiastra più dura più compatta a questa qua che comincia a essere marroncina piena di terra lì c'è un altro pezzettino di ferro conficcato da qualche parte ci sarà l'impianto elettrica a eccolo qua eccolo qua questo è quello che rimane dell'impianto elettrico una treccina una treccina due attimo che ve lo metto a fuoco mi allontano un attimo perché sono troppo vicino una treccina due di rame rivestita di stoffa che continua continua va lì ha è stata interrotta vedete qua si vede ancora un po della della treccina rivestita di stoffa che va su va su va su va su va su passata di qua e gira qualcosa mi sono lasciata alle spalle lunghissimo sto posto è grandissimo tra le altre cose qua c'è un'altra curva un'altra variante sicuramente come vi ho detto questo muro qualche io alla sinistra l'hanno costruito per rinforza qua c'è un muro antisoffio una puttrella di rinforzo il muro queste pietre qua sono troppo tutte uguali per essere cadute senza terra sicuramente le hanno hanno fatto uno spietramento da qualche parte le hanno buttate qua dentro sembra troppo strano che siano tutti uguali dalla stessa misura ecco qua siamo arrivati qua c'è un'altra uscita c'è un'uscita secondaria sicuramente che me ne accorgo dal fatto che c'è la spazzatura hanno pensato bene di avanzava del materiale dove lo mettiamo e lo mettiamo un po lì chissà questa roba qua di ferro allora qui cosa troviamo troviamo dei truccioli di rame di tornio di ottone di torno ci sarà un'industria di tornitura qua dentro e lì c'è un muro che chiude l'entrata del rifugio un'uscita una delle due comunque va bene comunque è grandissimo sto posto è grandissimo eccoli lì i truccioli che vi dicevo è grandissimo sto posto va bene adesso spengo faccio due fotografie se troviamo qualcosa come al solito ve lo facciamo sapere allora come promessi vi ho detto che se trovavamo ancora qualcosa ci saremo sentiti infatti io prima nel concitare dell'esplorazione non mi sono accorto mi sono accorto solo di questi due cavi che sono rimasti appesi dell'impianto elettrico che vi ho fatto vedere prima vedete qui poi interrotto poi va su e rimane ancora appeso nel suo alloggiamento originale però poi per terra io non ho fatto caso guardate un po che c'è ancora tutto il suo filo il tuo cavo originale lo vedete c'è tutto il suo cavo originale che è caduto perché i supporti di ferro e si sono deteriorati e il cavo però è rimasto guardate un po adesso qua rimane sotto qua appare di nuovo lo vedete qua qua c'è ancora tutto il suo cavo originale cose che non è che si vedono tanto spesso perché il cavo generalmente è sempre stato preda di quelli che se lo portavano via per andare solo a vendere qua invece essendo una zona un po più meno frequentata vedete qua adesso rimane sotto la rimane sotto lo smottamento lì comunque questo cavo qua girava tutto girava tutto perché era appeso qui a questi ganci qua va bene penso che non mi sia sfuggito niente come vi ho detto prima se troviamo ancora qualcosa non lo facciamo sapere cioè avviamo verso l'uscita sperando di trovarla perché ha una cosa vedete qui lì c'è la rimanenza di un muro molto probabilmente lì qui c'era un muro che veniva su e sosteneva questa parte di volta anche di là e qua ci sono i legni che facevano da da piatta banda per sorreggere come vi ho detto prima di qua c'è una consistenza di roccia di qua invece c'è un'altra di qua non ce n'è mai stato bisogno di qua invece sì però venendo a mancare i legni di sostegno è franato è venuto giù rifugio fortuna che noi siamo ancora riusciti a entrare per documentare questa meraviglia sentiamo un po la consistenza è ormai non c'è più non c'è più perché vedo ancora al cavo guardate che meraviglia al cavoli che cammina cercando un'uscita va bene ragazzi ci avviciniamo all'uscita e niente se troviamo qualcosa ve lo facciamo sapere va bene no mi è venuta in mente una cosa che avevo notato ho detto poi ne parlo e invece mi sono dimenticato allora sono tornato indietro mi volevo soffermare un attimino su questi ganci qua adesso ve lo metto a fuoco ve lo metto a fuoco ve lo faccio vedere bene questo che è un perno di ferro è una punta di ferro che è stata conficcata ne abbiamo già parlato per sorreggere il cavo dell'illuminazione però ha una particolarità vedete che è stratificato è tutto fatto cioè si sta ossidando adesso provo a toccarlo si sta ossidando a strati perché si sta ossidando a strati e si sfoglia come mai questo questo è dovuto al fatto che questo è un perno è un perno una punta che è stata forgiata è stata forgiata e ribattuta sull'incudine praticamente i ripiegamenti del ferro sull'incudine è rimasto dell'aria è rimasto un vuoto all'interno quando è stato ripiegato tipo una mille sfoglie una mille sfoglie che viene piegata 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 ma all'interno rimane un po d'aria se questo fosse un perno o una punta fusa di un di un blocco solo si ossiderebbe praticamente in modo circolare si e si consumerebbe in modo uniforme invece quando esplodono così e si vedono tutte queste stratificazioni è perché il ferro è stato battuto sull'incudine è un ferro fa sforgiato a mano è stato battuto poi rigirato poi battuto poi rigirato poi appuntito però questa qui è un è la morte del ferro perché a contatto con l'ossigeno con l'ossigeno fa l'ossido e poi entra dentro entra nella parte nella parte dove dove non è compatto dove non è unito dove non è unito il ferro e si sfogliano si sfogliano e si e si sfaldano si sfaldano ne abbiamo già trovato di quelli interi che si consumano in modo circolare si 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 mangiano invece questi qua che si ingrossano e si si espandono è dovuto proprio al fatto perché questa è una cosa là si vede ancora la particolarità del il diametro del ferro è un quadrello è un quadrello quadrato però qua è entrato l'umidità e si è e si è espanso va bene mi sembrava giusto farlo notare perché sono cose che non è che se ne vede tanti in giro di ferro incodiciato a questo modo comunque va bene adesso io per la terza volta provo uscire però se vedo qualcosa mettiamo fuoco l'uscita anzi vi faccio vedere come si fa andare verso l'uscita ok passiamo nella zona franosa passiamo sotto il tronco vedete qua guardate un po i segni dallo scalpello lì che hanno fatto che hanno fatto sulla pietra di qua e di qua per mettere il legno di sostegno questo spero di non prenderlo in testa adesso che passo e olè ok qui l'aria è cambiata è la volta buona che adesso usciamo va bene ragazzi comunque se nel frattempo ci accorgiamo di qualcosa non lo facciamo sapere allora l'ultima volta promesso stavo per uscire ma ho notato una cosa ho notato una cosa che a parte la popolazione infinita di pipistrelli che c'è qua dentro che se la stanno spassando ragazzi guardate che è primavera è uscita un po fuori cosa fate qua dentro ammucchiati la cena un altro e vi dicevo guardate questa questa è una vecchia catena ormai è bloccata qua è bloccata dal tempo qua e non non si può più togliere è una vecchia catena fissata qua si vede che sorreggeva qualcosa non saprei cosa però guardate un po la consistenza di questo legno qui parliamo di un legno di peccato non poteva resistere tra le altre cose un legno di castagna hanno preso dei legni buoni però non potevano resistere all'umidità che c'è qua dentro dovessi sentire l'umidità che c'è qua dentro forse per questi pipistrelli adorano stare qua dentro va bene promesso è l'ultima volta che vi disturba adesso usciamo adesso usciamo però questo è tanto bello a questo posto che c'è sempre qualcosa da scoprire guardando anche per terra si trova sempre qualcosa di interessante va bene dai ci avviamo verso l'uscita a nemo dai dai che ti filmo mentre esce eccolo lì il compagno di mille avventure che mi accompagna sempre che si sta dirigendo verso l'uscita guardate nel cubaggio di questo rifugio è fantastico va bene mi avvia anch'io e se troviamo qualcosa lo facciamo sapere